Una Alice, una Vocaloid che viene, rama laggiù! Ci sono le scheletze ragazzi, guardate qua. Sali in giro, qua c'è una scheletta, attenta le ossa di prima sempre. Facciamo salire anche la reitla! Non è che crolla il balco qua con tutte queste persone? Lo so, lo so. Un applauso, un grosso applauso! Non scappate, tanto arrivo da tutti. Allora, incominciamo. La solita domanda, la più fastidiosa secondo me. Come è iniziato cosplay? È iniziato cinque anni fa, il mio primo cospe è stato Sangho, da Nui Asha. E da allora, ha continuato e niente, ecco qui qua. Ok, tu? Ho iniziato tre anni fa con Isamane, purtroppo. Ragazzi, presentate anche il vostro cosplay. Sì, sì, ma facciamo il giro dopo. Ah, sì. Ok, vai! L'anno scorso con te. Con me? No. Confermo, no. Vai! L'anno scorso con lui. Con lui, ma... Vabbè, lasciamo stare. Noi in realtà diamo cosplay a tutti, quindi anche i bambini in carroccella, in carroccina. Adesso passiamo a lei. Io pure tre anni fa con... Sempre con noi? No, con noi. Solo. Con me la loro. Ok, allora rifacciamo la carrellata con nome e che cosplay porti. Ciao, sono Girlotta e sono Ramma. Sono un'alcolista anonima e ho fatto Ramma. Sono Sara e interpreto Mico Azzone. Chiara Alice. Laura Erit. Desirei Saevo. Ok, facciamogli un grossissimo applauso. Ragazzi, potete anche rimanere qui sul palco. Rimanete sul palco se volete finché non crolla. Finché non crolla, appunto. E andiamo avanti.